Musica Buonasera e ben ritrovati ad un'altra puntata di HV24 Si apre la settimana che porterà il giallo-blu alla sfida contro la Fiorentina in programma domenica 10 settembre all'ora 15 allo stadio Vente Godi ripartono gli allenamenti, la Serie A non ha giocato questo fine settimana a causa degli impegni delle varie nazionali due sono i nazionali giallo-blu ancora impegnati si tratta di Verde che questa sera incontrerà la Slovenia in un test match amichevole con l'Italia Under 21 e poi anche Caceres che nella notte fra il 5 e il 6 settembre con la sua Uruguay affronterà il Paraguay in trasferta non amichevole in questo caso ma bensì match per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 con l'Uruguay di Caceres terza nel girone sudamericano a quota 24 punti è retratto invece dall'impegno con la propria nazionale con l'Italia Under 19 Moise Kean che ha svolto quest'oggi il primo allenamento con i giallo-blu l'incontro con Mr. Pecchia l'incontro anche con tutti i compagni di squadra prima di prendere il via perché ci sarà una settimana per chi in totale intera di allenamento con i nuovi compagni in modo tale da essere già pronto per il match contro la Fiorentina allenamento di oggi presente anche dopo le 42 presenze lo scorso anno in Serie B anche Nicolas dopo anche le due da titolare in questa Serie A la prima contro il Napoli e la seconda contro il Crotone Nicolas infatti ha prolungato il proprio contratto in giallo-blu fino al 2020 e ascoltiamo le parole del portiere giallo-blu Prolungamento del contratto per Nicolas in giallo-blu fino al 2020 e le tue emozioni No veramente sono grandi emozioni più che emozioni tanta fiducia ringrazio tutta la società e tutti i miei compagni per aver potuto fare questo rinnovo C'è tanta fiducia in te che hai iniziato l'ennesimo anno in giallo-blu sei quasi un veterano ormai possiamo dirlo Sì sì più o meno sette anni insieme al Verona per me è sempre bello stare anche altri dieci Tanti anni che sei qui a Verona ti sei integrato alla perfezione c'è un momento in questi sette anni che ti ricordi maggiormente? Più significativo anche per te qui a Verona? Per me secondo me quel più bello secondo me che eravamo in difficoltà e siamo riusciti a risalire quello quando abbiamo andato in Serie B a Salerno per me quello lì certo sono emozioni diverse come siamo andati in A tutto ma in C è stato bellissimo Tornando alla Serie B sei stato uno dei protagonisti lo scorso anno dell'obiettivo raggiunto 42 partite su 42 giocatore più presente della categoria la parata che ti ricordi di più? quella Frosinone sicuramente anche perché poi l'abbiamo visto è stata decisiva ai fini della classifica sì è stata decisiva ma anche l'impegno di tutti i compagni secondo me la squadra così unita a tutto siamo riusciti a fare il traguardo si riparte sempre dal gruppo l'hai fatto intuire tu anche dalle tue parole il gruppo dei portieri leggermente rinnovato anche quest'anno è rimasto Nando Coppola sei rimasto tu, è arrivato Marco Silvestri come va il lavoro con loro e anche con il preparatore? va benissimo Marco è arrivato è un bravo portiere è una brava persona ci siamo trovati subito bene adesso è lavorare lavorare bene per un futuro da qui si riparte da questo gruppo unito anche per i prossimi impegni perché domenica si riparte domenica c'è la Fiorentina se domenica è una partita importante loro non hanno fatto punti ancora ma sicuramente sarà difficile anche noi vogliamo fare i punti dentro casa che non abbiamo ancora fatto e sicuramente sarà una grande sfida settimana importante per la prima squadra giallo-blu in vista del match contro la Fiorentina l'abbiamo sentito anche dalle parole di Nicolas e settimana importante anche per la primavera allenata da mister Porta perché? perché venerdì 8 settembre alle ore 15 a Vigazio ci sarà l'esordio nel campionato di primavera 1 contro la Roma match che sarà visibile anche per tutti gli utenti su Ellas Verona Channel e match a cui la primavera giallo-blu si avvicina dopo la sconfitta per 2-1 in casa nell'ultima amichevole per il campionato contro il Brescia una sconfitta in dolore se pensiamo che la primavera schierava molti 2001 e dunque le seconde linee che magari hanno avuto anche meno spazio nel corso delle amichevole di avvicinamento al campionato e ascoltiamo dunque dalle parole di mister Porta come si avvicina la primavera giallo-blu all'esordio in campionato e anche tutte quelle che sono le indicazioni del percampionato stesso Mister della primavera giallo-blu Antonio Porta ormai ci siamo tra una settimana si comincia venerdì a Vigasio arriva alla Roma Sì è partita che abbiamo anticipato ci hanno chiesto l'altra squadra comunque siamo pronti siamo oggi questa è l'ultima amichevole che facciamo e abbiamo avuto l'opportunità di far giocare tutti quelli che fino adesso hanno giocato proprio per dare la continuità un po' a tutti poi per venerdì saremo pronti per l'inizio ecco vediamo già comunque in questa amichevole linearsi un'idea di gioco a prescindere da chi scende in campo che è quella che hai provato a costruire fin dal ritiro Sì stiamo giocando con i quattro difensori tre centrocampisti poi davanti tre quarti e due punte i ragazzi si adattano bene a questo modulo perché abbiamo molti centrocampisti anche di qualità per cui è un modulo che i ragazzi prendono bene molto offensivo si gode un po' poco in più però loro sono contenti entusiasti per me va bene il lavoro che stiamo facendo fino adesso e quindi andiamo su questa strada Ti chiedo ormai anche a livello primavera si studiano bene gli avversari che squadra è la Roma? È una squadra solida è una squadra che l'anno scorso è arrivata fino in fondo e quindi con un allenatore molto esperto è una squadra di tutto rispetto sicuramente sarà una delle prime del campionato noi comunque la fondiamo coscienti di avere una squadra di buona qualità e una partita pesta praticamente Passiamo ora ai risultati del settore giovanile giallo-blu abbiamo già parlato della primavera sconfitta dal Brescia per 2-1 mentre gli under 16 hanno ottenuto un buon secondo posto al torneo Firetti vittore in amichevole per gli under 15 contro il Bassano Virtus mentre due i tornei che hanno visto protagonisti giovanissimi sesto posto al Memorial al Peretti per i classi 2004 mentre i classi 2005 raccolgono una bella vittoria finale al Memorial Soriani portano a casa la Coppa anche gli esordienti 2006 primi al torneo Fiore del Baldo mentre sfiorano lo stesso risultato gli esordienti 2007 al Memorial Castagnini infine per chiudere terzo e quinto posto rispettivamente per i Pulcini 2008 e i Pulcini 2009 entrambi impegnati al trofeo Simtank Engineering dunque è tutto per questa puntata di HV24 la squadra riprenderà gli allenamenti domani con un'astuta mattutina alle ore 10 e noi ci ritroviamo venerdì per il prossimo appuntamento di HV24 HV24